Buonasera a tutte e tutti. Sono molto emozionata, contenta di essere qui. Io sono Annalisa Camilli insieme a Giulia Caminito qualche mese fa, subito dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, abbiamo deciso, ci siamo guardate negli occhi, abbiamo deciso che non volevamo che per l'ennesima volta sui giornali italiani vincesse una narrazione completamente fuori fuoco di quello che era successo a Giulia Cecchettin e nello stesso tempo ciascuna di noi ha avuto dei ricordi che si sono sbloccati, la storia di questa ragazza fin dall'inizio ha avuto anche una funzione di specchio in tante di noi, abbiamo ricordato delle cose che avevamo lasciato da qualche parte in qualche cassetto della memoria e molte volte non avevamo nominato come violenza, non avevamo riconosciuto come abuso, come violenza dei compagni, dei mariti, dei padri, dei nonni con cui abbiamo vissuto e quindi è stato appunto uno slancio molto spontaneo. Inizialmente abbiamo usato un libro che presenteremo qui stasera, abbiamo usato la letteratura appunto, abbiamo usato un libro che è L'invincibile estate di Liliana, di Cristina Rivera Garza e lo abbiamo letto insieme, ci siamo ritrovati in una libreria di Roma, la libreria Tuba, per leggere questo libro, un libro in cui una donna, una scrittrice ha trovato le parole per raccontare il femminicidio di sua sorella Liliana avvenuto negli anni 90 a Città del Messico, ci ha messo 30 anni Cristina per trovare le parole per raccontare il lungo percorso attraversato da sua sorella Liliana e quindi quelle parole già scritte, che erano già lì nei libri le abbiamo usate e le abbiamo insieme pronunciate in pubblico, ci sembrava importante in quel momento che vincessero quelle parole le parole che sono già state scritte dalle donne che ci hanno preceduto, dalle scrittrici, dalle filosofe, dalle pensatrici, dalle giornaliste che almeno da 200 anni raccontano anche la violenza di genere, gli abusi che hanno subito e la loro vita dal punto di vista di una donna e poi appunto abbiamo insieme ad altre, amiche, compagne, deciso di provare a fare questa occupazione un po' come quando eravamo ragazzine, dei giornali per cui lavoriamo e provare nei due mesi successivi al femminicidio di Giulia Cecchettin a stare nei giornali con il racconto della violenza scritto però da chi l'ha subita e quindi molte generosamente hanno aderito la campagna è stata sorprendente anche per noi abbiamo cominciato appunto ed eravamo poche decine di scrittrici e giornaliste quindi di donne che lavorano quotidianamente con le parole e l'idea era quella di scrivere insieme che è una cosa molto diversa che scrivere scrivere è un'azione che di solito si fa da soli nel proprio studio e invece l'idea era proprio di farlo insieme in modo che non fosse possibile cancellarla questa scrittura non fosse possibile non vederla questa scrittura che è invece quello che spesso appunto avviene alle parole alla scrittura, alle scritture delle donne e appunto la risposta è stata straordinaria ci ha lasciato devo dire entusiaste e felici appunto per la grande adesione che c'è stata molte scrittrici, molte giornaliste ci hanno detto che avevano, volevano raccontare, avrebbero voluto raccontare quell'episodio o tanti episodi che fino a quel momento non erano riusciti a farlo e che hanno sentito le altre che in qualche modo le stavano proteggendo e quindi questa chiamata collettiva è servita anche a dare coraggio a tante di tirare fuori quel racconto dal cassetto al momento la campagna è finita ma in realtà stanno continuando ad uscire pezzi su tutti i giornali italiani io sono una giornalista e trovo diciamo che sia incredibile anche che i giornali abbiano aderito in maniera così massiccia a questa campagna abbandonando anche le logiche di competizione che spesso li abitano e tutti quanti hanno davvero dato tantissimo spazio a questa campagna e adesso appunto ascolteremo alcuni di questi racconti di questi articoli scritti su alcuni giornali c'è qui una rappresentanza di queste più di 160 scrittrici e giornaliste che hanno aderito alla campagna io prima di lasciare la parola a loro volevo ringraziare il circolo dei lettori che ha da subito abbracciato l'idea appunto di fare dal vivo questa specie di reading, di happening dal vivo rileggere insieme, ritornare anche alla fisicità dei corpi per discuterne appunto alla fine della campagna ringrazio anche Giulia Caminito che non è qui che con me ha avviato la campagna e poi Maria Brighi e Emanuela Truda che sono altre due donne che ci stanno aiutando moltissimo nell'organizzazione della campagna che appunto non immaginavamo all'inizio quando l'abbiamo lanciata che diventasse così grande e lascio la parola a Monica Cito Buonasera, io sono Monica Cito e ho partecipato a questa campagna perché c'è una parola insomma in napoletano che è scurno, vergogna e ho partecipato perché mi sono scocciata insomma di provare questo sentimento e perché mi sono insomma sentita in qualche modo anche protetta dall'avere intorno un cordone di altre donne pronte a raccontare la loro stessa storia questo mio pezzo è uscito il 12 gennaio sul domani editoriale, sul mensile finzioni e si intitola L'abuso solamente è memorabile voglio scendere da questa macchina non voglio morire in queste campagne sperdute con questo animale che mi grida addosso non so manco dove ci troviamo non so dove mi ha portata voglio scendere da questa macchina perché io qua ci rimango stasera ho esagerato stasera perché esagero sempre non ho seguito le sue istruzioni adesso la sua pazienza è finita stasera è la volta buona che ci resto secca stasera è la volta buona mi ha portata in braccio a Cristo voglio andare da mia madre che non sa nemmeno con chi mi sono messa voglio andare da mia madre che è lontana chilometri e non può fare niente c'è solo questa macchina e c'è solo lui che urla con questa voce di tamburo che sale dal centro della terra il suo ringhio sfiatato si scioglie in quel testa di cazzo che mi si posa sulla testa come una coroncina di piombo quando ho paura sento che devo andare a fare pipì mi sto facendo la pipì addosso mamma vienimi a prendere in qualche modo anche se ti ho detto che sono a casa con una mia amica sono stata bugiarda come sempre sono una grandissima bugiarda e ti riempio di palle da quando sto con lui però vienimi a prendere lo stesso trovo un modo e fammi uscire da questa macchina compari di fronte a me mamma e fammi piangere nei tuoi capelli è il 2020 lui si chiama Zeta e quando l'ho visto la prima volta non mi è piaciuto ho subito pensato che non era il mio tipo più di tutto era la sua voce a non convincermi sembrava un abbaiare un guaire di lupo che poi si scioglieva in un rapidissimo falsetto come da opera buffa la prima volta che ho scoperto che Zeta quando urlava faceva cadere pure i quadri eravamo nella mia camera la mia coinquilina è entrata per controllare io mi sono vergognata come una mariola avrei preferito ci avesse trovati nudi aggrovigliati come vipere gemelle avrei preferito mi avesse vista in un altro modo con lui tutto bene mi ha chiesto la mia coinquilina vattene non è niente le ho detto anche un po' sfastiriata perché quando io e Zeta iniziavamo quei litigi eramo circondati da un male alchemico e totalitario e nessuno poteva mettersi contro di noi perché abbiamo creato una dinamica che se interrotta mi risuonava dentro come uno strappo e nessuno si doveva mettere in mezzo anche quella volta le avevo fatto arrabbiare diceva che ero creatura ingestibile che mi doveva raddrizzare che mi doveva insegnare a campare e che sarebbe riuscito finalmente a educarmi io mica sono come quei senza palle dei tuoi ex mica sono come il tuo Antonio e poi alla fine mi ringrazierà io lo faccio per il tuo bene tu non ti meriti niente perché ti sei comportata male come sempre nel mio cervello si era creata una poltiglia mi sembrava di essermi scordata tutto quello che avevo imparato dall'apprendimento dell'alfabeto in poi come se nella mia testa si fosse stato un minestrone anacquato in cui galleggiavano la mia intelligenza i miei talenti le mie conoscenze galleggiavano come corpi morti con le otteri secchi che non servivano più a niente non servivano più alla Monica che conoscevo e di cui avevo memoria se penso all'ultima fase del nostro rapporto ho in mente una girandola di fotogrammi che scottano come lingue di fuoco non so come ho fatto ma a un certo punto sono riuscita a lottare anche contro le scorie che avevo in me contro l'età mentroiettata che mi faceva mettere a fuoco i tratti somatici di quella violenza e poi è iniziato comunque il mio calvario le telefonate notturne anonime messaggi alle mie amiche alle mie sorelle lettere lunghissime piazzate sul penerottolo di casa le minacce i biglietti gli attacchi di panico sul tram lui dietro di me e la paura di ritrovarmelo in ogni momento non sono stata migliore di nessuno non sono stata migliore delle donne che non sono più con noi se sono qui a battere tasti all'impazzata nel buio di questa stanza se sono qui a scrivere parole che mi fanno vergognare ed è proprio la vergogna che mi fa capire che devo andare avanti sono ancora qui su questa macchina che sfreccio come una saetta ti puoi fermare un attimo per piacere solo un attimo giusto un momento Zetta accelera e mi chiamava sciaiola dice che sono volgare che sono sguaiata che sono sboccata che parlo troppo perché quando sono in gruppo non devo parlare con gli amici suoi non devo chiedere l'accendino a nessuno devo tornare da quelle come me devo tornare nei vasci napoletani devo tornare da quelle come me io vorrei chiedergli che facciano quelle come me e inizio a pensare ai vasci napoletani e non capisco perché questa sia un'offesa e non capisco perché in bocca a lui diventano delle caverne bruttissime degli andri ammuffiti dove il sole non ci entra i miei vasci così lontani che nelle sue labbra diventano ossari musei di teschi cimiteri delle fontanelle anche stavolta si calma perché si calma sempre alla fine torniamo a casa lui va a letto quasi subito vieni anche tu a dormire mo' io sono sul balcone finalmente riesco a chiamare mia madre mamma mi chiede come sto le dico che sono a casa mia e che ho appena finito di mangiare mi chiede perché ho la voce affannata e strana le dico mi è tornata l'asma prendi un bentelan mi dice lei grazie mamma e penso a quanto si possa amare una persona anche se non può fare niente anche se non può proteggerti grazie mamma le ripeto alzando sempre di più la voce per non farle sentire che c'è Zeta nell'altra stanza che mi sta ancora chiamando buonasera grazie a tutte e a tutti di essere qui io sono Francesca Mancini otto anni fa insieme a altre quattro donne ho ideato un festival dedicato alla scrittura femminista che si chiama Inquiete e che è stato immaginato in collaborazione con la libreria femminista di Roma che si chiama la libreria Tuba e in questo momento oltre a questo lavoro al Salone Internazionale del Libro di Torino questo racconto è uscito su repubblica.it il 3 febbraio Cara Anna in questi mesi ci siamo scritte poco ho la sensazione che ci siamo scritte distrattamente per abitudine o forse per timore di non avere più notizie l'una dell'altra lo so che è molto difficile per voi so cosa state rischiando ma da ieri non penso ad altro sono vecchia riderai lo sono da anni ma in questi giorni di fine novembre mi sembra di non poterlo più negare ho 82 anni sono le 8 apro le finestre e l'aria calda mi brucia la gola infiamma la stanza mi rimetto al letto faccio fatica ad alzarmi lo sai come ogni mattina la luce divide a metà il letto e come faccio ogni giorno da anni mi sposto sul cuscino accanto ho ancora bisogno di ombra le vecchie tende bianche che ho portato con me si agitano come se dovesse succedere chissà cosa e invece qui non accade mai nulla su questa lingua di terra lontana siamo tutte vecchie e stanche siamo poche troppo lontane l'una dalle altre per incontrarci guardiamo il mare diamo le spalle alle paludi la casa è sempre più calda ho deciso di mettere le tende in tutte le stanze ma questa mezzombra costante mi fa sentire ancora più sola la cucina al piano di sotto è più fresca per questo ho deciso di spostare lì la poltrona di Ada dalla finestra sopra il lavello vedo il mare e a volte le barche rientrare come sai dipende dai venti ieri per la prima volta ho sentito le gambe tremare mentre affondavo i piedi nella sabbia il sudore mi scivolava lungo il collo sotto il cappello avevo i capelli bagnati ero stanca sono così stanca che mi pare di non avere più paura ho perso Antonio ho perso tua madre ho perso tutte le altre mi sono sempre vergognata ma ora forse te ne devo parlare la sera finivamo di lavorare molto tardi io ero sempre la più lenta finivo di chiudere le bozze sempre per ultima e ricontrollavo il colofon almeno cinque volte controllavo la quarta di copertina con la stessa ossessione che usavo mentre osservavo le foglie delle orchidee ti piacevano così tanto e anche tua madre le invidiava ci prendevi in giro noi la prendevamo in giro avevo poco più di trent'anni la prima volta mi stuprò nel suo ufficio in piedi contro la scrivania fu veloce, violento feci fatica quasi a capire cosa stava accadendo avevo poggiato le bozze sullo scaffale l'ultima parola aspettava sempre a lui il capo erano le otto e facevo sempre tardi ero sempre l'ultima ad andare via non lo so Anna perché non l'ho mai detto a tua madre non l'ho mai detto a nessuna perché rimanevo fino a tardi io rimanevo avevo paura di perdere tutto mai avrei pensato che questo silenzio durasse più della paura che avevo scusa se te lo racconto solo adesso scusa se te lo racconto con una lettera ci hanno costretti a vivere qui siamo state punite eravamo vecchie dicevano inutili ma non è la verità eravamo pericolose tu lo sai le tue compagne lo sanno sapevamo fare la rivoluzione quando il mare è troppo alto e le poche barche che abbiamo non riescono a partire per raggiungere la città non parlo per giorni ma ti penso non mi rassegno a questo esilio a volte faccio fatica a immaginarti adulta ti ricordo bambina perdonami Anna sono vecchia e sono malinconica ridevo ricordo come ridevi quando catticchiavo mentre provavo a farti mangiare tua madre e io non avevamo pazienza mi manca mi mancano tutte ma lei mi manca ogni giorno quando sono distratta mi sembra solo lontana che l'abbiano destinata come le altre da un'altra parte e poi invece mi ricordo che non c'è più ho vissuto più di 80 anni e ho lasciato andare le spalle forti alle quali appoggiarmi ho lasciato andare Lucia le sue righe intorno alla bocca quando apriva la porta e sapeva che ero io perché la sera tardi da sola non riuscivo a respirare ho stretto le mani di Rachele e Lucia fino alla fine otto mesi fa ho chiuso gli occhi di Ada sono sola cara Anna che mi sei lontana nelle notti di sogna rivedo i tuoi capelli neri lucidi spessi intrecciati al vento come amava dire tua madre i tuoi occhi blu sfrontati quando a 25 anni ci rimproveravi perché non capivamo come intendevi organizzare i gruppi di rivolta non eri d'accordo con noi sentivo le fiamme sulla nostra carne eravamo già vecchie la carne che cominciava ad aggrapparsi alle ossa ti ricordo ti ricordo quando mi pregavi per l'ennesima volta di raccontarti la nostra storia avevi poco più di 10 anni e io ne avevo appena compiuti 40 ti piaceva così tanto sentire come avevamo deciso di lasciare tutti e di andare a vivere insieme eravamo 4 e come un pappagallo ripetevi è stato un giardino solo per un giardino di rose e limoni e per quel pozzo al centro rachele si era separata lucia non aspettava altro tuo padre se n'era andato e antonio si non c'era già più e a un certo punto avevamo cambiato le nostre vite quanto mi mancano le voci del mattino rachele la guerra alla cocciniglia lucia sempre incazzata per i limoni malati con te accanto che tra poco saresti diventata l'adolescente alta e insolente che si vede in ogni foto sentivo che tutto quello che avevamo fatto scritto urlato l'avevamo fatto per te per tutte voi anche le scelte più dolorose sento le mani piccole che stringono le nostre durante i cortei mentre in braccio a noi ballavi cantavi e forse ti spaventavi poi tornavi seria e ci guardavi chissà se ti sentivi al sicuro in mezzo a tutta quella folla noi pensavamo che la nostra forza avrebbe difeso tutte lo facevamo per te e per tutte le altre ragazze poi improvvisamente eri tu che stringevi le nostre mani le nostre guerre erano diventate le vostre perché ci stavano togliendo tutto non sapevamo ancora che stavamo assistendo alla fine di tutte le nostre lotte eravamo vecchie e ci avevano separato lontane l'una dalle altre facevamo paura ma tu Anna mentre ci portavano via mi dicevi non preoccupatevi sistemeremo tutto noi perché voi ci avete insegnato a farlo giuravi che ci saremmo riviste che ci avreste riportato tutte a casa che tua madre e Rachele non avevano lottato in vano Anna fa caldo il mare è tornato caldo cercherò di raggiungere la città perché ho bisogno di frutta e sono giorni che mi dicono che forse arriverà sento le sirene ci stanno avvertendo stanno per rimettersi in viaggio pensavo che non sarebbe mai successo qualcosa di peggiore dell'unica cosa che non ho mai raccontato a nessuno oggi l'ho raccontato a te la seconda e la terza volta e la quarta volta successe nel mio ufficio pregai che nessuno lo scoprisse faticavo a respirare pensavo di morire mi succedeva quando pensavo di morire non sentivo più l'aria nei polmoni pensai che forse mi piaceva pensai che stava succedendo perché era colpa mia non ero riuscita a cacciarlo pensai chiudendo gli occhi che non stava succedendo a me che non ero io non mi stava stuprando Anna quanto avrei voluto liberarmi di quel mostro quel mostro mi aveva mangiata e invece non ho fatto in tempo ci hanno separato e non ho mai detto la verità perdonami perché queste parole così lontana da me non le avresti dovute leggere spero che tu non sia sola spero che un giorno riuscirete a portarci via da queste terre dove ci hanno isolate dove solo le onde dove sento solo le onde che si spezzano e i gabbiani che gridano al cielo ho avuto paura anch'io Anna adesso lo sai in quei mesi lontani sono morta tante volte poi siete arrivate voi sei arrivata tu ed è te che continuo ad aspettare non la bambina non la ragazza aspetto te e il nostro giardino di rose e limone è arrivata la barca spero di trovare qualche arancia almeno un po' di colore in questa cucina così vuota grazie buonasera io sono Letizia Pezzali e sono una scrittrice di romanzi per Einaudi ma ho anche una formazione economica sia accademica che professionale infatti su domani il giornale mi spesso mi occupo scrivo di temi economici e in particolare di disuguaglianze ho deciso di aderire alla campagna di Unite perché per me la scrittura è sempre stata l'inizio di una rivoluzione personale quindi la scrittura collettiva penso possa essere l'inizio di una rivoluzione collettiva quando pensiamo alla violenza di genere pensiamo anzitutto al femminicidio e alla violenza sessuale all'assalto diretto e brutale sul corpo all'agnentamento ma sappiamo che la violenza assume molte altre forme e lo diciamo anche sebbene i fenomeni abbiano proporzioni così vaste da risultare talvolta paradossalmente sfuggenti un tipo di violenza sistemica è la violenza del lavoro e sul lavoro dico del lavoro e non solo sul lavoro perché anche il lavoro in sé può assumere per le persone i contorni della violenza il lavoro può essere schiavitù nei casi estremi oggettiva nei casi meno estremi in quanto forma di sofferenza frustrazione mortificazione e come sempre se c'è una vessazione questa assumerà per le donne una forma tutta particolare che si aggiunge alla forma generale le donne spesso hanno la versione rosa della perdonatemi la parola sfiga che si aggiunge alla sfiga generale il lavoro è un terreno umano di grande ambiguità il lavoro per le donne ci piace dirlo è indipendenza è importante che le donne lavorino è importante che non stiano a casa a fare la calza l'autonomia questa parola che noi usiamo tutti con ottime intenzioni la parola autonomia tende però ad avere spesso un retrogusto giudicante in fondo se fai la casalinga se non lavori se non hai un progetto tuo e solo tuo di qualche genere ecco in fondo sei un po' colpevole ora mettiamo un attimo da parte chi davvero per scelta in piena libertà e potendoselo permettere sceglie di non lavorare mettiamo da parte insomma i problemi inesistenti e occupiamoci dei problemi reali se non viviamo in una torre d'avorio sappiamo che ci sono molte ragioni per cui tante donne anche nei paesi avanzati non lavorano la partecipazione al lavoro in Italia è molto bassa percezione femminile come certamente sapete ci sono una serie di pressioni culturali quelle restare un passo indietro rispetto all'uomo e qui non si può pensare a quei femminicidi nati dalla frustrazione di un ragazzo che non accetta che lei vada più veloce di lui ma poi ci sono anche questioni pratiche che però se scavi sono culturali pure loro tutto ciò che discende dall'idea che la donna debba occuparsi prima di tutto della casa dei figli e degli anziani bisognosi di assistenza questa è quella che il premio Nobel per l'economia Claudia Goldin di quest'anno avrete sentito parlare definisce disuguaglianza di coppia e lei l'ha studiata e analizzata in profondità e dalla disuguaglianza di coppia coppia eterosessuale ovviamente che poi spesso discende la disuguaglianza di genere a livello professionale perché alle donne si chiede la flessibilità la donna è il primo punto di contatto se c'è un problema all'asilo ti telefonano la chat delle mamme si chiama poi naturalmente ci sono anche tanti padri oggi ma io continuo a pensare che siano delle eccezioni alle donne si chiede flessibilità la flessibilità ha un costo noi magari questo costo non lo vediamo ma ha un costo per la donna in termini di reddito nel senso che tu donna scegli il lavoro per esempio più flessibile quello che ti permette magari è un bellissimo lavoro Claudia Golding fa un bel esempio dice una donna avvocato un marito tutti e due avvocati tutti e due Harvard quello che volete a un certo punto lei sceglierà non un brutto lavoro per carità ma sceglierà lo studio magari quello boutique quello più piccolino non il grande studio che ti richiede di lavorare 100 ore alla settimana ma quello che magari è un po' più flessibile dove il capo magari ha un po' più no e i clienti più piccoli questo si tradurrà poi a 55 anni quando tutta la gestione di figli eccetera sarà terminata anche dopo si tradurrà ovviamente in una riduzione di reddito per la donna proprio si può fare il conto ovviamente se lo Stato non fornisce strutture sostegni poi come spesso accade in tanti posti sostegni assistenziali la donna magari sceglierà addirittura di non lavorare e basta a questo si aggiunge un mercato del lavoro che per le donne non è sempre proprio questa terra delle opportunità discriminazioni salariali quando voi sentite dire le donne prendono l'80% prendono l'80% di quello che prendono i maschi quindi prendono il 20% in meno dovete pensare che in realtà il numero vero è ancora peggio perché spesso queste statistiche escludono il top fanno la mediana adesso senza annoiarvi però escludono i dati estremi e nei dati estremi spesso ci sono gli uomini nel senso che nel top 2% dei salari le posizioni sono occupate dagli uomini quindi discriminazioni salariali sessismo nelle promozioni siamo neanche a dire ambienti lavorativi sgradevoli diciamo la verità ancora oggi nei vari modi che tutti siamo in grado di immaginare piccolo piccolissimo aneddoto personale 15 anni fa lavoravo per un'istituzione finanziaria e il mio capo una persona bravissima correttissima doveva scrivere un memo interno per l'istituzione gli avevano chiesto che si intitolava perché vogliamo più donne e lui era in crisi totale stiamo parlando di una persona che ha studiato a Oxford cioè abituato a fare diciamo strutturare argomentazioni di qualsiasi genere in crisi totale al punto che a un certo punto si arrabbiò e si girò verso di me che ero diciamo nel floor di questo posto dove lavoravo ero una delle poche donne mi guarda mi disse Letizia perché noi vogliamo più donne e io gli dissi it's not my problem it's yours cioè il tuo problema devi scrivere e te io non te la scrivo avevamo un rapporto simpatico però insomma fa riflettere le aziende oggi si attrezzano per creare le pari opportunità va di moda l'azienda responsabile alcune fanno washing lo sappiamo però anche no cioè ci sono comunque anche c'è della realtà ma questo dà fastidio a molti la questione è pari opportunità noto ultimamente qui di nuovo non è scientifica la cosa è personale però interessante una serie di ragazzi giovani maschi neolaureati figli di miei conoscenti che si lamentano sottovoce perché al giorno d'oggi se sei maschio bianco eterosessuale sei discriminato nelle assunzioni cioè me l'hanno detto al telefono sì me l'hanno detto cioè non è che me l'hanno detto me l'ho inventato no io dico no comment come dico spesso le quote rosa sono quel meccanismo per cui si cerca di avere definizione tecnica almeno il 20-30% di donne in un ambiente professionale le quote azzurre definizione tecnica mia sono invece quel meccanismo per cui da millenni si ha quasi il 100% degli uomini nelle posizioni di potere capisco sia difficile cedere il potere quando nel dna realmente porti la certezza quasi scritta di una poltrona pronta per te per fortuna lo dico senza ironia esistono anche gli uomini intelligenti esistono e che capiscono queste cose e colgo l'occasione per dire loro di farsi sentire negli ambienti di lavoro dove osservano discriminazioni chiudo con una nota che meriterebbe da sola un trattato la schiavitù contemporanea perché la schiavitù non è un fatto storico ma è presente oggi nei contesti più poveri essere obbligati a lavorare sotto la minaccia di violenze e ritorsioni essere di proprietà di qualcuno subire abusi fisici sul lavoro essere disumanizzati trattati come oggetti sostituibili vendibili tutta questa roba esiste ancora magari non diffusissima in Italia ma sappiamo che esiste nel mondo lavori forzati prostituzione forzata e non voglio citare quelle cose terribili che ho letto ieri sul crack quello scandalo quella cosa che francamente è emblematica perché non credo che sia solo lì che accade comunque lavori forzati prostituzione forzata matrimoni obbligati in quel caso la prostituzione forzata è la dipendenza da droghe ma è sempre se ci pensate bene fondamentalmente quello ecco la schiavitù contemporanea colpisce molti uomini ma non stupisce che le donne siano comunque la maggioranza delle vittime con punte di quasi totalità se ci occupiamo di sfruttamento sessuale cosa dicono gli esperti di diritti umani anche qui parliamo di necessario un cambiamento culturale del quale beneficerebbero tutti però è chiaro il cambiamento culturale vuol dire andare fisicamente nei luoghi partire dai bambini partire dall'educazione sono processi complessi sono processi molto lunghi come sempre più ci avviciniamo alla povertà più riusciamo a osservare un fenomeno nella sua pienezza guadagniamo diottrie buonasera io sono Stella Poli sono una ricercatrice universitaria veramente precaria che prova a mantenere barlumi di speranza di amore per il suo lavoro sono emozionata sono molto onorata di essere qui oggi ringrazio ancora infinitamente Annalise Giulia per questo invito che davvero mi ha onorata e il mio pezzo lo leggo oggi in realtà è un pezzo che abbiamo scritto unite io e Giusy Palomba che anche si unisce al mio ringraziamento e avrebbe tanto voluto essere qui ma è altrettanto precaria in Scozia io ho scritto un libro un romanzo in cui il fulcro è una violenza che non riesce ad arrivare a processo perché i tempi della giustizia in qualche maniera inceppano questo e Giusy ha scritto un libro bellissimo che si intitola La trama alternativa che in qualche maniera mi è sembrato che aggiungesse un pezzo a quello che nel nel mio testo era quasi un un impasso una strada senza uscita la trama alternativa parla di giustizia riparativa di un altro modo di pensare al sistema giustizia e di pensare appunto a come processiamo anche collettivamente la violenza in questo caso di genere sessuale e quindi nulla anche conoscere Giusy è stato un onore e appunto vi leggo questo pezzo che si è uscito per La balena bianca una rivista culturale online e si intitola 10 ore 45 anni dopo processo per stupro non c'è niente di intimo in una violenza sessuale ha denunciato uno stupro di gruppo erano in quattro uno è figlio di un uomo potente il controesame è durato 10 ore le hanno chiesto perché in quel momento fosse rannicchiata se respirasse con la bocca o col naso se le stessero a destra o a sinistra come le hanno spinto la testa per costringerla a un rapporto orale se l'hanno presa per i capelli con una mano o con due come ha piegato le ginocchia più le gambe o più le ginocchia se aveva gli slip se aveva le calze se aveva il reggiseno come si allacciavano o slacciavano i suoi pantaloni se erano elasticizzati se avevano una culisse come gliel'hanno tolti perché non ha urlato perché non si è chiusa a chiave in una stanza perché non ha usato i denti per chiudere sospendere la fellazio cui la costringevano dieci ore alla fine ha detto che si sentiva svuotata e che le veniva da vomitare a ventitré anni ne aveva diciannove ha risposto non lo so a volte e non ricordo a volte soprattutto verso la fine delle dieci ore hanno usato queste risposte per mettere in dubbio la testimonianza non ti ricordi se ti hanno preso con una mano o con due non ti ricordi dove avevi le ginocchia mentre a turno ti stupravano allora vedi non ti crediamo un interrogatorio da medioevo hanno detto vittimizzazione secondaria qualcuno ha aggiunto al che un'avvocata che difende uno dei quattro ha detto che non c'è niente di intimo in una violenza o è intimo o è violenza e che perché ci fosse vittimizzazione beh doveva esserci una vittima questo stavano accertando che fosse vittima per un po' penso alla regola delle doppie negazioni e spero si elidano venga fuori una parafrasi impensata poi prendo intimo cerco intimo non c'è niente di intimo in una violenza sessuale intimo è il superlativo di intra di interno è il massimo del dentro la mia testa glossa è un limite di penetrazione un segreto intimo una persona intima molto dentro i più dentro se l'avessi davanti l'avvocata non so se sarei precisa se sarei lucida ma vorrei dirle l'etimologia lei fa una lunghissima citazione di una complessa definizione di fatto come a dirci che pesa le parole e chiederle se davvero se un cazzo o quattro cazzi ti entrano in bocca se davvero lei pensi che non sia dentro abbastanza per riempire quel superlativo o è intimo o è violenza ti entra dentro solo il sesso consensuale sembra dirci l'avvocata all'università trascrivevo gli enunciati in simboli logici quando preparavo un esame di filosofia mi pare una fallacia vorrei dire all'avvocata ma credo che le direi cose più scomposte se davvero fosse uno stupratore dovrebbe essere in galera allora non ha mai amato i riflettori si dice conduce una vita normale come tanti ragazzi della sua età cosa ci può fare sarà l'aria disinvolta il senso di innata importanza o le bottiglie di champagne nei privè non gli resistono le ragazze gli si appiccicano addosso come una colla tossica lui non è carne buona da macello lui è e deve essere un ragazzo come tutti gli altri a tutti i costi e contemporaneamente è e deve essere il cognome importante che lo esonera dai giochi non può finire in questa agogna non è previsto che accada in fondo cos'è successo davvero niente deve cambiare perché niente è successo lo ha voluto lei si stavano divertendo è stata lei a insistere di farlo con tutti come se lui avesse bisogno di chiedere sesso figuriamoci un'altra giornalista lo disturba per strada ma non rilascia dichiarazioni parla a chi gli sta intorno cerchi concentrici di dichiarazioni della famiglia è un ragazzo come tutti gli altri lei era consenziente era disinvolta lei lo voleva era evidente sono ragazzi che si divertono come tutti i ragazzi della loro età ripetere finché non diventa vero l'avvocata lei sa cosa fare evocare distacco ed estraneità spezzare i fili dell'empatia con lo spettatore accertare i fatti dice in pubblico ma in privato forse avrà detto tu non devi apparire da nessuna parte devi stare il più nascosto possibile profilo basso gli avranno detto a volte faccio l'esercizio di immaginare i discorsi degli avvocati dopo le accuse di stupro mi faccio in testa le strategie che useranno per minimizzare negare il racconto di chi diventa imputata ti facciamo vedere come la distruggiamo avranno pensato forse no troppo volgare gli avranno detto non preoccuparti ti tireremo fuori da tutto questo più probabilmente è così lei non merita nemmeno la dignità dell'odio lei è al limite deve solo precipitare pensare che lo scopo degli avvocati è che lei vacilli suo padre dice se fosse davvero uno stupratore dovrebbe essere in galera allora perché è così che si misura la verità se finisci in galera sei colpevole altrimenti no la legge è uguale per tutti provo anche a figurarmi i pensieri di lui e se l'apparato provo pronto a garantire a tutti i costi che niente cambi che il percorso assegnato a ragazzi di un certo status continui senza intoppi cedesse anche solo per un momento tutto attorno a me l'infrastruttura la cultura che non mi fa affondare pur se io non lo volessi pur se uno di questi giorni mi malenassi per la testa che forse forse sì qualcosa di brutto è accaduto e forse io ne sono responsabile cosa potrei fare un drappo nero separa la ragazza da avvocati assistenti e carabinieri essere costretta a difendersi anche dagli occhi ogni violenza ha come fine ultimo far balbettare la vittima spezzare la sua sintassi negli ultimi anni l'Italia è stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo per vittimizzazione secondaria nei processi di stupro ovvero chi ha subito violenza si ritrova a subirne di ulteriori da parte di altri soggetti comprese le istituzioni il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime e di violenza di genere recita ad esempio la sentenza del 27 maggio 2021 il documentario processo per stupro è del 1979 riprende per la prima volta un processo per stupro ai danni di una ragazza non ricca cui è stato promesso un lavoro e che a quello che sarebbe dovuto essere un colloquio è stata violentata 45 anni dopo si può ancora citare la ringa dell'avvocata Lagostena Bassi avvocata dell'accusa che dirà si rifiuta di fare quello che di solito si fa in processi del genere si rifiuta di occuparsi della moralità della ragazza fare a lei un processo si chiede perché ci si permetta di fare un processo a una ragazza per solidarietà maschilista risponde certo ma soprattutto solo così si ottiene che non si facciano denunce è probabilmente per questo che signora Strasburgo si rischiano sanzioni e controsentenze perché importa di più ribadire che durerà moltissimo che sarà umiliante e che alla fine vorrai piangere e vomitare c'è tutto o moltissimo di intimo in una violenza sessuale e anche dobbiamo capire bene chi cosa e come processare buonasera a tutti grazie io sono Lorenza Pieri faccio la scrittrice in genere scrivo narrativa ma questo è un pezzo giornalistico che ho scritto insieme a Michela Volante e quando Annalisa Camiglia e Junior a Caminito mi hanno contattata per aderire al progetto Unite io avevo già in mente di scrivere questa cosa l'avevo già proposta al post e secondo noi anche se appunto forse è un racconto un po' anomalo rispetto agli altri perché non racconta nello specifico una violenza di genere si occupa del problema culturale che ci può essere alle spalle cioè che cosa nella nostra cultura può essere migliorato o in qualche modo ha un effetto diciamo sul nostro immaginario e in particolare io ho coinvolto Michela proprio perché parlavamo di scuola cioè di come visto che dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è aperta un'accesa polemica anche sulla sulla questione del fare o meno un'educazione affettiva nelle scuole ci siamo interrogate su cosa in realtà quello che abbiamo studiato tutti per generazioni in qualche modo ha già come modello di educazione affettiva cioè quali sono le storie che abbiamo letto tutti di relazione di quali sono le immagini le idee che le donne hanno attraverso i secoli di letteratura in cui i personaggi femminili sono stati descritti in un certo modo e quindi abbiamo scritto questa breve storia tossica della letteratura italiana sì l'idea è venuta a Lorenza e mi ha coinvolto io mi occupo di letteratura e di scuola anche da tantissimi anni ho pubblicato il mio primo romanzo che parla di una figura storica della letteratura italiana ovviamente essendo una donna è rimasta nota per circa 30 anni dopo la sua morte nel 1726 poi se la sono dimenticati tutti salvo riacchiapparla inizio novecento dicendo che in realtà era interessante soltanto perché il Leopardi si era ispirato a lei non lei in quanto Petronilla Paolini Massimi diciamo i nomi e quindi Lorenza con questa idea mi ha coinvolto e continua a esserci questo problema del chiediamoci quali modelli stiamo trasferendo non perché non si stia facendo in vari ambiti con vari progetti di varie case editrici in tante scuole non si stia cercando di raccontare meglio e di più ma è ancora raro è ancora tangenziale è ancora per sbaglio e forse è venuto il momento di chiederci che cosa il pezzo che appunto dal titolo si capiva aveva anche un intento di provocazione perché è chiaro che non si può raccontare la storia della letteratura italiana in un in un pezzo di 19.000 battute però appunto è stato oggetto di forse non parlava di violenza di genere ma in qualche modo l'ha scatenata perché dopo che è stato pubblicato ci è arrivata addosso di tutto ancora sentiamo gli echi dopo un mese e mezzo di attacchi però la lettura integrale è libera sul sito del post e leggerlo tutto dura 20 minuti quindi noi abbiamo fatto una piccolissima così insomma ne facciamo dei piccoli estratti e quindi lo stesso facendo un breve scursus su quanti e quali modelli di relazione siano proposti dai classici della nostra letteratura il quadro generale è piuttosto chiaro ed esolante nelle antologie scolastiche il sessismo i pregiudizi di genere le vittimizzazioni secondarie sono una costante le scrittrici sono assenti o relegate al di fuori del canone che significa che difficilmente ci sono e se ci sono è solo per bollare che in quel punto lì una scrittrice l'abbiamo messa da generazione assorbiamo anche a scuola attraverso la letteratura una cultura sentimentale priva di equilibrio perché è espressione di una visione del mondo prettamente maschile questa cultura sentimentale è inevitabilmente diventata la norma perché di rado è stata o è oggetto di discussione specchio del tempo in cui è nata certo ma inevitabilmente anche modello per il tempo successivo nel corso dei secoli per esempio le figure femminili della letteratura italiana non si sono mai del tutto emancipate da due stereotipi possibili l'angelo puro o la subdola tenteratrice ci abbiamo tenuto a mantenere una doverosa precisazione che meno male che l'abbiamo fatta perché evidentemente l'abbiamo fatta più lunga poi l'abbiamo asciugata ma per fortuna non l'abbiamo tolta tutta evidentemente l'idea comunque di toccare una una materia incandescente forse già ce l'avevamo con questo articolo non si vuole mettere in discussione il valore dei capolavori letterari non si mira a cancellare nessuno dalle antologie né a dare una lettura forzata dei testi con occhio antistorico e acritico meno che mai si auspica lo studio di testi detossicizzati si tenta piuttosto uno sforzo di consapevolezza anche sui testi che ammiriamo e amiamo e che inevitabilmente sono stati modelli interiorizzati pieni di stereotipi difficili da scardinare partiamo diciamo dalle origini duecentesche dalla scuola siciliana Dante Paolo e Francesca uno diciamo degli esempi tossici che è sempre presente nelle nostre antologie è un racconto del Decameron che si chiama Nassaggio degli Onesti e qui vi leggerò cosa abbiamo scritto nella triade dei padri delle nostre lettere Dante Petaracca e Boccaccio Boccaccio è sempre quello che viene percepito come più avanti perché nel Decameron affida alle donne un ruolo centrale di narratrici e ne fa spesso protagonisti delle novelle ma Nassaggio degli Onesti è una vera e propria apologia del femminicidio la storia è questa il nobile Nassaggio non viene corrisposto dall'amata nonostante la riempia di attenzioni e regali ma alla fine trova il modo per convincerla facendola assistere durante un bacchetto all'aperto a una scena di fantasma una scena che si ripete ogni venerdì nella pineta di Ravenna dove lui allestisce un bel banchetto la invita e questa scena riproduce una giovane nuda che corre nella pineta viene inseguita da un cavaliere che la uccide e dà in pasto il suo cuore e le sue interiora ai suoi cani ora questa donna di fronte a questo banchetto è sconvolta e quindi decide di cedere e di sposare Nassaggio lieto fine ecco è un lieto fine che viene raccontato come tale grazie a una ragazza sbranata dai cani una ragazza che se l'ha cercata perché non ha ricambiato l'amore del suo uomo di boccaccio forse si potrebbe scegliere anche altro visto che insomma le novelle sono tantissime ma guarda caso questa è una novella che ho studiato io e l'ha studiata anche mio figlio due anni fa quindi evidentemente è qualcosa che rimane nelle antologie si poteva scegliere per esempio la novella di Filippa da Prato che invece si difende in tribunale dalla condanna morte per aver tradito il marito e riesce a essere anche assolta però perché riesce a essere assolta perché dimostra che le donne sono schiave della loro insaziabile lussuria quindi altro cliché poi andiamo avanti ci siamo soffermate sull'Ariosto e sul Tasso e in particolare dalla Gerusalemme liberata ovviamente Clorinda e Tancredi ci ricordiamo tutti come è narrata e che Clorinda che è la scena dell'uccisione peraltro meravigliosa cioè nessuno mette in dubbio che poeticamente sia stupenda e che muova qualcosa dentro di noi di volutamente perturbante però dipende sempre come la presentiamo e come la presentiamo a ragazzi e ragazze in momenti complessi della loro formazione e oltre a colori in De Tancredi ci sono Armida e Rinaldo che sono protagonisti di un finale più lieto ma senza esclusione di colpi Armida è una bella maga pagana che tenta decine di crociati con promesse erotiche intrappolandoli nel suo giardino incantato quando l'amato Rinaldo riesce a liberarsi lei diventa una furia e scatena i suoi guerrieri contro di lui vorrebbe ucciderlo lei stessa ma quando lo vede si rende conto di amarlo e fugge per tentare il suicidio come soluzione al male d'amore Rinaldo però la salva e anche Armida e qui si conclude il suo aspetto sovversivo di donna magica e volitiva si converte si converte anche al cristianesimo si sottomette a Dio e alla volontà di Rinaldo con parole che ricalcano quelle di Maria la Madonna ecco l'ancilla tua d'essa tuo senno dispone gli disse e le fialegge il cenno lieto fine grazie alla sottimensione totale a Dio e all'uomo Amen i secoli scorrono la letteratura evolve arriviamo fino diciamo al novecento nelle nostre antologie in genere si arriva fino si leggono insomma a Moravia e diciamo che non siamo riusciti a trovare degli esempi di figure femminili che non rientrassero in questi due cliché o della della povera del povero angelo del focolare alla buona madre o queste demonie anche tentatrici streghe e per questo diciamo che probabilmente sarebbe anche auspicabile riuscire a leggere qualcos'altro qualcosa di perlomeno non scritto attraverso uno sguardo maschile se vuoi leggere il finale intanto concludiamo così dicendo che insomma ci pare che parlando della possibilità di portare nelle scuole l'educazione all'affettività male non sarebbe riflettere anche su come le figure esemplari della letteratura italiana proprio per la loro potenza non offrano solo un riflesso dei tempi in cui sono state scritte ma abbiano via via modellato l'immaginario collettivo continuando anche a perpetuare cliché tossicità giustificazioni nella violenza di genere un primo passo potrebbe essere dare più spazio alla discussione e alla decostruzione di questi modelli per contestualizzarli meglio e sottolineare i luoghi in cui si possono annidare subdolamente gli stereotipi più duri a morire soprattutto però bisognerebbe dare più spazio alle autrici non solo dei contentini per offrire prospettive più ampie voci meno stereotipate e più verosimili ma di materiale su cui discutere per un'educazione sana agli affetti anche solo per controparadigmi ce n'è già veramente tantissimo grazie grazie buonasera buonasera a tutti io mi chiamo Sara Poma diciamo che principalmente sono un'autrice di podcast principalmente racconto storie personali e quindi quando Annalisa Camilli mi ha scritto per chiedermi se volessi avessi voluto partecipare a questa questa campagna mi sono trovata un po' disorientata perché non avevo una storia personale che mi riguardava da vicino da raccontare ma ho provato ad allargare un po' lo sguardo e a ragionare sulla comunità a cui appartengo la comunità LGBTQ plus per capire se anche lì c'erano delle tracce di violenza ho scoperto che di questo tema si parla molto poco quindi mi sono fatta aiutare da da qualche libro e qualche ascolto per provare a tracciare una strada in questo senso leggo da seduta se non mi dispiace come registro i miei podcast anche se i vocal coach diranno che bisogna registrare in piedi ma io preferisco stare seduta comoda anche un po' curva a volte in Asking for It un podcast fiction realizzato dalla Audi Art Company Mermaid Palace c'è una sequenza lunga una manciata di minuti che attraverso il suono descrive in maniera chirurgica l'escalation di abuso all'interno di una relazione di coppia le voci si sovrappongono il sound design crea disturbo le parole si fanno minacciose evocano la prigione di controllo in cui Goldi la protagonista una giovane musicista si ritrova confinata la voce le parole minacciose le richieste di rispondere al telefono inviare foto per dimostrare che Goldi si trovi esattamente lì dove dice di essere appartengono a una donna di nome Coach quando ho ascoltato questo podcast avevo da poco finito di leggere ragazza donna altro di Bernardine Varisto in quella matriostica di storie e personaggi mi aveva impressionato molto quella di Dominique la migliore amica di Amma la figura centrale del libro le due donne in una Londra radicale post-punk fondano insieme una compagnia teatrale trovano il loro spazio nel mondo fino a quando Dominique incontra una donna afroamericana Zinga si innamora e abbandona tutto per seguirla negli Stati Uniti Zinga come coach nel podcast canadese è una persona estremamente carismatica entrambe emanano fascino e soggezione ed esercitano sulle protagoniste una attrazione sessuale dirompente entrambe si trasformano nel giro di poco tempo in carnefici infliggono controllo e possesso isolano le loro donne dal mondo esterno annientano schiacciano costruiscono per loro una gabbia in cui niente è più vero in Askin Forita a un certo punto Goldie la protagonista spiega l'origine della parola gaslighting e per farlo oltre alla famosa storia dell'uomo che cerca di fare impazzire la moglie per poi ucciderla facendole credere che le luci di casa si spengono senza motivo cita una frase di Anna Arendt presa dalle origini del totalitarismo dice il risultato di una continua sostituzione della verità con la menzogna non è che la menzogna viene accettata come verità e la verità viene considerata menzogna bensì che il nostro orientarci nel mondo viene distrutto quando ho intercettato le storie di Askin Forita ragazza donna altro da prima sono stata contenta è una specie di riflesso condizionato me lo porto dietro dalla mia adolescenza senza rappresentazione suppongo quando l'unica cosa disponibile che parlasse di persone come me era un libro uscito negli anni 20 del 900 il Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall quando poi ho capito dove andavano a parare il podcast canadese la storia immaginata da Evaristo ho provato un senso profondo di disagio ma era una forma diversa da quella che sono solita sentire quando leggo di femminicidi o di violenza di genere perpetrata da uomini in quella forma di disagio che definirei più tradizionale ho sempre saputo riconoscere una dose di rabbia molto precisa e facile da indirizzare rabbia nei confronti del brodo culturale in cui siamo immersi dove le dinamiche dei soprusi degli uomini nei confronti delle donne sono chiare dimostrate dai fatti dai numeri dalla rappresentazione e dalla narrazione di quegli stessi fatti in questo caso invece ho realizzato subito che il mio senso di malessere era più articolato e che lì dentro si nascondeva una qualche forma di vergogna perché quegli squarci letterali rendevano evidente che quelle stesse forme di violenza che reggono sul controllo e sul sopruso quella violenza che isola e mina l'identità della vittima può succedere anche dentro la comunità di cui orgogliosamente faccio parte può addirittura essere perpetrata da una donna su un'altra donna per liberarmi dalla vergogna fastidiosa generata da questa realizzazione ho provato a cercare nei dati qualche forma di conferma prestabilita volevo capire se nelle donne che esercitano violenza sulle proprie compagne si annida una forma di patriarcato interiorizzato ero sicura di trovarne traccia ma ho trovato altre cose più lampanti il report italiano più recente è stato realizzato nel 2023 da rete Lenford si chiama Broken Rainbow ed è interessante pensare che l'immagine di un arcobaleno che si spezza venga utilizzata per spiegare che la violenza si annida anche dove non ci si aspetterebbe dentro una comunità che in fondo da sempre lotta solo per rivendicare il diritto di esistere e di vedere riconosciuti i diritti civili fondamentali un tratto che risulta comune a tutte le persone che hanno partecipato alla survey 200 in tutto e hanno dichiarato di aver subito forme di violenza è che spesso è molto difficile riconoscere i segnali di abuso stabilirne la gravità e quindi chiedere aiuto quando si decide di farlo la barriera all'ingresso è molto alta per mancanza di centri antiviolenza specializzati e quindi nella maggior parte dei casi le vittime si rivolgono ad associazioni lgbtq plus per le donne lesbiche denunciare è doppiamente difficile perché subentrano ulteriori complessità rispetto a quelle che già normalmente vivono tutte le vittime la parola che ricorre più spesso è paura paura di non essere credute dal momento che chi perpetra la violenza è un'altra donna e per alcune che non hanno ancora fatto camminati in famiglia o al lavoro paura di essere vittime di outing infine nel campione intervistato è comune una scarsa fiducia nei confronti dell'istituzione e del contesto sociale italiano e questo senso di disillusione combinato al fatto che queste persone sono spesso vittime di violenza psicologica in diversi contesti nella famiglia a scuola o sul lavoro rende ancora più difficile riconoscere la violenza e l'abuso nella relazione di coppia questo senso di confusione e incapacità di capire se l'abuso che si sta vivendo sia vero o sia immaginato mi ha fatto pensare a un altro libro importante che ho letto su questo tema si chiama Nella casa dei tuoi sogni ed è un memoir scritto dall'autrice americana Carmen Maria Machado Machado ricostruisce la sua storia di vittima poco più che ventenne e per farlo mischia vari generi letterari in maniera sorprendente il tema dell'incredulità e del gaslighting continuo sono centrali nella dinamica della sua relazione abusante ma a un certo punto del libro c'è un passaggio politico che mi ha colpito perché in qualche modo smonta la tesi da cui ero partita cioè che la violenza fra donne derivi principalmente da una forma di patriarcato introiettato dice quando all'inizio degli anni 80 il dibattito sull'abuso domestico queer ha preso piede in occasione di festival le conferenze le attiviste hanno fatto circolare fogli informativi per sfatare i miti sulla violenza queer tra i miti da sfatare mito è solo un fatto emotivo psicologico quindi non conta mito io posso gestirlo a differenza delle sue tre ultime ex amanti mito la cosa più importante è restare insieme e risolverlo mito siamo in terapia quindi adesso si risolverà ma alcune lesbiche hanno cercato di limitare la definizione di abuso alle azioni degli uomini le lesbiche violente stavano usando il privilegio maschile le donne che erano donne non si comportavano in maniera violenta con le loro fidanzate c'era anche la scusante che semplicemente era una questione complicata il peso della pressione della società eterosessuale si sono versati fiumi di inchiostro allo scopo di decentrare le vittime e le donne violente hanno spesso agito impunite si è continuato ad andare in tondo girando intorno a verità fondamentali che nessuno voleva guardare dritto in faccia come se fossero il sole le donne possono abusare di altre donne le donne hanno abusato di altre donne e le persone queer dovevano prendere seriamente questo problema perché non lo avrebbe fatto nessun altro al loro posto mi domando quante volte io stessa sono stata condizionata dai miti che menziona Machado quante volte di fronte a un'amica che mi raccontava di una fidanzata gelosa e possessiva sono stata più indulgente che se si fosse trattato di un fidanzato questo non significa dubitare dell'esistenza di un macigno sistemico culturale e maschilista che è alla base della violenza di genere ma realizzare con fatica e dolore che la violenza esiste anche dentro la comunità LGBTQ+, che dalla violenza ogni giorno da sempre in molti parti del mondo cerca di proteggersi questo è solo un primo passo per capire com'è provare ad arginarla servono sempre più persone che si interrogano anche su questa forma di violenza servono dati servono professionisti che possano aiutare chi si trova a vivere queste situazioni di abuso serve approfondimento e tempo anche se i pochi dati a disposizione indicano che non ce n'è moltissimo serve rappresentazione e c'è bisogno di parlarne ogni volta che si può a costo di guardare dentro un buco nero e alimentare domande sempre nuove prima di trovare le risposte necessarie solo così le vittime potranno forse sentirsi meno sole grazie eccoci io mi chiamo Irene Soave e sono la giornalista del Corriere della Sera lavoro alla redazione Esteri e in realtà quando ho saputo della campagna Unite ho aderito io di spontanea volontà ho scritto io alle promotrici perché nella ragione sociale di questa campagna c'è una parola che a me piace molto e che ho visto che è necessaria e la cui necessità è stata evidente anche in alcuni degli interventi che ho sentito prima come quello di Letizia Pezzali molto bello sul lavoro che è un terreno d'ambiguità e quello che abbiamo appena sentito sul non capire bene cosa ti succede allora questa caratteristica questa nebulosità di moltissime forme di abuso non solo sessuale e moltissime forme di prevaricazione non soltanto sul lavoro è un terreno che mi interessa molto perché secondo me è pochissimo discusso perché è un terreno che è abitato dalla vergogna che è un grandissimo zittitore ed è invece cruciale parlarne anzi come dicono le promotrici di Unite nominarlo sto venendo disturbata dal mio stesso cellulare qualcuno può spegnerlo è un record ah no non ero il mio no perché la campagna si prefiggeva si prefigge di nominare la violenza e secondo me questo è un atto molto importante io avevo in animo perché lavoro alla redazione esteri di scrivere di una disputa tra le istituzioni europee che è andata in scena fino al 6 febbraio quando si è raggiunto un precario accordo che in realtà non piace a nessuno sulla definizione dei reati sessuali molto in sintesi la commissione europea voleva una definizione anche di stupro su cui tutti gli stati europei concordassero ma il consiglio che raduna i governi dei paesi membri non è riuscito a elaborarla poi non l'ho scritto proprio perché in realtà la questione si è sfilacciata ho portato però quando mi hanno invitata a questa serata un pezzo di un libro sul lavoro che ho scritto da poco che si intitola lo statuto delle lavoratrici in cui c'è un capitolo che è dedicato alle molestie sul lavoro e volevo leggervene un pezzo perché è una storia di quelle che ho raccolto io ho raccolto tante storie attorno a me e poi ho cercato di raccontarle in modo un po' narrativo perché secondo me di cronaca ce n'è tanta di sentimenti pochi però secondo me contano i sentimenti e quindi ve ne leggo un pezzettino e credo che io concluderò questa serata cerco di sbrigarmi fino all'altro ieri eri brava bravissima poi è successo qualcosa e non lo sei più hai consegnato un lavoro in ritardo no hai insultato qualcuno ma che hai trascurato un ultimo controllo e mancato di evitare una cazzata non che tu sappia ma sei una lavoratrice e dunque in azienda puoi ricevere diversi trattamentini speciali lui è uno piacente sa ascoltare è garbato corregge le tue sviste con dolcezza una mano sempre sulla tua spalla tu sei molto brava sei molto molto brava questa è giusto una svista la segna come a scuola con un trattino di stilografica azzurra la sua sola eccentricità te lo spiega perché così la prossima volta ci fai attenzione si scusa persino per la pedanteria ci va più precisione dice più puntualità ma tu gli riporti in mente se stesso quando era giovane l'entusiasmo la fretta di farcela le mille idee sei tutta potenziale finalmente qualcuno ti vede ti trova brava ha interesse a formarti funziona così del resto a essere bravi mica si impara da soli tu ti manifesti per come sei e le opportunità arrivano e il suo sguardo paterno il suo favore sono opportunità le hai meritate sei brava cosa vuol dire brava? beh brava la tua collega la Roberta per fortuna sua è almeno carina dice ma copia tutte le tue idee non te ne sei accorta darebbe un braccio per farsi dire brava ma proprio non si può fare il talento e ti guarda negli occhi o si ha o non si ha tu è sottinteso ce l'hai vieni a pranzo certo che vai a pranzo l'appuntamento è nel solito posto raggiungibile a piedi ma non nei paraggi dell'ufficio in modo da non incontrare colleghi ci incontrate regolarmente colleghi ciascuno con una commensale mai vista il pranzo è un tripudio di inside jokes di malignità su altri colleghi quello non ha voglia di fare un cazzo la poverina cioè sempre la Roberta non è portata quella è una sgobbona quella è un baciapile quell'altro è un raccomandato da cui si consolida la certezza che siete voi i più bravi tu sei bravissima è ancora tutto da dimostrare lui è stato penalizzato dalle dinamiche di questo posto che se fosse un po' meno tossico dirigerebbe quindi pur essendo il più bravo è mezza tacca dove si merita sotto dove si merita però meglio così che piegarsi alle dinamiche di questo posto questi pranzi carbonari hanno luogo ogni tanto un po' più spesso di una volta al mese un po' meno spesso di una volta a settimana al tuo compagno non li dici mai e a lui non dici mai che hai un compagno mangiate bene e bevete meglio con la scusa che sei precaria offre sempre lui sei precaria fai parte di un gruppo di consulenti esterni per la digitalizzazione chiamati temporaneamente ormai due anni fa e ora indispensabili alla vita dell'interazienda ed è vero che guadagni mezza lira ma per fortuna e non manca molto una stabilizzazione alle viste grazie anche ai suoi buoni uffici a settembre l'azienda offrirà la possibilità a chi lo vuole del gruppo di passare tra i dipendenti e chi non lo vuole stipendio quasi raddoppiato contributi di stabilità non ci sarà a posto per tutti 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 ti ha fatto sapere lui riservatamente c'è per i più bravi tu dormi pure tra due guanciali vieni a pranzo certo che vai a pranzo e a cena? l'invito arriva in un pomeriggio di piena estate su whatsapp come al solito sei precaria e sei giovane e sei inclina a rimuovere alcuni dati di realtà dal tuo campo visivo ma d'accordo ma no sei proprio Heidi è un invito per le 10 di sera in un ciringhito urbano dietro casa di lui quando la moglie è in vacanza il mondo si è evoluto dal 1955 di quel film con Marilyn ma non tutti i tuoi colleghi hanno fatto lo stesso è luglio e già alcune delle loro famiglie se ne sono partite per i due mesi del mare fa ridere ma io mi sto incazzando no 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 ma fa ridere cioè l'intento l'ho scritto così ma mi fa incazzare comunque i colleghi maschi sono garruli goliardici giovanili lepa fasciata in spavalde camice di lino ci vieni a cena il messaggio lo leggi nell'anteprima disattivi la spunta blu fai sparire l'ultimo accesso spegni lo schermo ma no che non ci vai ma è scemo ma che domanda è oddio però lui dirà perché a pranzo vai volentieri a cena no perché dopo pranzo non è previsto scopare ma siamo sicuri che vuole scopare magari un invito normale la tua amica Eleonora lavora in un'altra azienda il suo capo è parecchio più diretto nell'ultima trasferta ha indetto una riunione urgentissima nella propria stanza e ci si è fatto trovare nudo ma infatti guarda che alla fine sarà un invito normale dopodiché sei per non andare lo stesso Eleonora compresa sono tutte storie che ho raccolto sono tutte storie non le ho inventate non le ho inventate niente grazie mille per l'invito ma stasera sono KO brava così chiunque insisterebbe aspetta ti ringrazio tantissimo e mi piacerebbe molto ma ma cosa ma non voglio scopare ma che cazzo mi inviti a cena ma ho un ragazzo ma ho sonno ma che invito è non ti offendere ma ecco così si che lo offendi cruciale prioritario non offenderlo essere leggera ignara rimbalzare con grazia infantile grazie è top tre emoji dell'anguria bello il ciringhito ma stasera ho un altro impegno altre tre emoticon dell'anguria rifacciamo presto oh 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 ma chi ha scritto questo messaggio una redattrice di cioè grazie stasera non posso ci vediamo al lavoro formale algido tanto varrebbe allora scrivergli grazie non voglio scopare e anche tu cazzo ma perché non ci puoi scopare una volta e via dai che è più facile è più difficile a pensarlo che a farlo potevi pensarci prima di accettare tutti quegli inviti a pranzo sei una cretina non ti sei mai sentita a meno di mondo e sei certa che qualsiasi cosa tu scriva sarà involontariamente sgarbata e sei una cretina aspetta un attimo chi l'ha detto che vuole scopare chi ha detto soprattutto che tu abbia visualizzato risponderai più tardi con un mendace leggo ora anzi domattina ieri sera lo KO metti via il cellulare solo che la mattina dopo lui al lavoro non c'è ha una trasferta di cui non sapevi e poi ha le ferie e quando rientra hai le ferie tu trascorrete insomma un mese senza vedervi e l'ultima settimana di agosto la musica è cambiata consegni una presentazione in tempo ok all'ultimo minuto ma in tempo e invece no devi esserti confusa andava consegnata ieri sei una cretina le stampe vanno in tre copie sulla sua scrivania il telefono fisso sulla tua suona e lui vieni nel mio ufficio attraversi l'open space davanti a tutti non ti riaccorta che i tuoi tacchi fossero così rumorosi arrivi da lui e c'è un refuso ristampagli le tre copie indica il titolo lo vedi il refuso? è qui non vedi nessun refuso lui resta calmo se ti dice che c'è un refuso c'è un refuso ristampagli queste copie tu stampi torni al tuo posto appena ti sei seduta il tuo fisso squilla di nuovo vieni nel mio ufficio di nuovo di nuovo pinzi le stampe ti affretti riattraversi l'open space se ti pare di disturbare tutti lui guarda le nuove stampe adesso andrebbero anche bene ma non mi piace come hai impaginato le slide le slide non vanno bene i dati non sono aggiornati non abbiamo più molto tempo finisci per consegnare il lavoro in piena notte dopo 50 anni rivieni nell'open space ma il giorno dopo non va comunque bene sai chi ha preparato le slide meglio di te? Roberta i pranzi carbonari non riprendono in compenso alle 12 sparisce per un'oretta proprio Roberta ma non era una degli scarsi eh però è affidabile non come te che sei sempre quasi in ritardo sei una cretina hai offeso qualcuno? hai offeso lui? fai l'errore di chiederglielo ho sbagliato qualcosa di recente? beh beh sei poco puntuale sei anche molto arrogante pensi di non avere più nulla da imparare pensi che il rispetto della forma sia pedanteria ci degni della tua presenza sbreghi di stilografica azzurra falciano una slide dopo l'altra dell'ultima presentazione che gli hai consegnato non te lo dico più mi pare una causa persa ai miei tempi i capi erano vecchi a scuola dice sviste come le tue le ho pagate care non tutti sono come me ci va più precisione dice più puntualità che peccato che tu non lavori sul tuo potenziale di questo passo e ci tiene a dirlo come se tu non lo sapessi già non è proprio detto che tu possa passare a settembre non è proprio detto settembre arriva e non arriva in effetti il contratto nel gruppo dei bravi è entrata però Roberta sulla sua scrivania il giorno dopo la firma spuntò un mazzo di rose da un ammiratore segreto il nome sul biglietto c'è bisogno di dirlo è scritto in stilografica azzurra ho finito io ci tenevo tantissimo a ringraziarvi a ringraziare Annalisa per questa iniziativa e appena me l'ha raccontato ho voluto che fossero qui quindi grazie davvero grazie per quello che avete scritto per quello che ci avete raccontato per i toni diversi i registri diversi e per averci sempre fatto non cadere per averci fatto emozionare ragionare riflettere su tantissime cose e spero che continuerete a farlo e naturalmente il circolo è sempre un luogo aperto grazie a voi che siete state qui con noi e davvero grazie mille 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 grazie mille